Dopo aver sentito il sindaco Luca Carrara e Fabio Terzi del gruppo Rizzi, sindaco dei albinesi, è ora la volta della Lega Nord, Lega Lombarda di Albino. Con noi abbiamo il capogruppo in consiglio comunale Daniele Esposito. Al di là, Esposito, delle critiche pesanti che muovete ormai sistematicamente alla giunta Carrara, ci saranno anche prospettive diverse problematiche che voi intendete portare avanti. Cominciamo dalle critiche. Allora, in primo luogo bisogna criticare nuovamente il comportamento che questa amministrazione nella persona del sindaco e anche dei consiglieri comunali e del vice sindaco mantengono nei nostri confronti. In primo luogo ricordiamo la questione del PGT con la mancanza del materiale e del tempo per poterlo studiare, materiale che ricordo appunto è stato modificato in alcuni suoi punti dal lunedì al martedì e il consiglio comunale era il venerdì. Quindi questo è un primo punto. Secondo punto, sicuramente da criticare l'articolo pesante che hanno scritto gli amministratori arancioni sul notiziario comunale Paese Mio, articolo nel quale sono stati insultati tutti i consiglieri comunali di minoranza e per questo motivo, visto che il notiziario è uscito il venerdì in giornata e il venerdì sera c'era il consiglio comunale, recatici in consiglio comunale e di comune accordo con le altre minoranze, dopo aver fatto una dichiarazione singolarmente a ogni gruppo politico di minoranza ma comunque dallo stesso significato, abbiamo deciso di abbandonare l'aula. Vorrei sottolineare l'atteggiamento veramente spocchioso direi del vice sindaco e del presidente del consiglio che uno non volevano lasciarci parlare, fare le nostre dichiarazioni e due mentre noi parlavamo ridecchiavano tra di loro e ci facevano scherno di noi. Quindi queste sono le prime critiche oltre ovviamente alle critiche programmatiche per quanto riguarda le loro scelte di governo del territorio. Noi non vogliamo sempre far polemica, capiamo che c'era crisi e l'abbiamo sempre sostenuto, sappiamo che è difficile fare il sindaco in un momento come questo e quindi tanto di cappello a Luca Carrara perché lo merita, più che lui guardiamo però la sua squadra. C'è all'interno della sua squadra una compagine che ha portato gli interessi della minoranza degli albinesi, si parla del 3% degli albinesi e il sindaco purtroppo per tenere in piedi la maggioranza è successo che gli ha accontentati, accontentato questa piccola corrente a di scapito degli altri. Ovviamente un comune che dopo 15 anni torna in mano al centro-sinistra, dopo 15 anni di amministrazione Lega non vanno a litigare tra di loro e anzi il motivo per cui si connota questa amministrazione su quello che dico è che l'amministrazione a partire dal sindaco risponde sempre che lui non è vero che rappresenta quella piccola corrente ma rappresenta gli albinesi, lo dice sempre come tono, a riprova, se fosse l'incontrario non avrebbe bisogno di dover continuare continuamente a dire le stesse cose. Poi patto di stabilità, vero il patto di stabilità è un problema di tutti i comuni, ma signori ma ci rendiamo conto che ci sono le aziende che hanno ridotto del 30, 40, 50 per cento, che ci sono gli operai che hanno il mutuo da pagare e non hanno il lavoro. E loro perché? Loro non hanno patto di stabilità, cioè quindi anche stancato, ho detto fuori dei denti, l'amministrazione ha continuato a lamentarsi quando ci sono i cittadini che non hanno i soldi per mangiare, non per fare le aiuole all'inizio di via Mazzini.